Sono passati nove mesi da quando un'ordinanza ha sancito lo sgombero dell'area adiacente alla stazione di Pescara, popolata da bancarelle abusive. Da lì in poi l'amministrazione comunale ha vagliato diverse alternative per spostare e regolamentare venditori e merci. Ad intervenire oggi è Forza Italia che lamenta ritardi e chiede una regolamentazione effettiva. Tutto inizia al 1 agosto 2015 quando un'ordinanza doveva prevedere lo sgombero di quest'area mercatale e poi tutta una serie di atti amministrativi a partire dal 1 agosto fino ad arrivare in giorni recenti che hanno individuato uno spazio idoneo secondo l'amministrazione comunale che doveva essere quello del sottopasso, secondo noi assolutamente sbagliato. Sino all'apertura di uno sportello che doveva essere frequentato dagli operatori di questo finto mercato e che non è stato assolutamente utile perché abbiamo visto che solo una ventina di operatori hanno chiesto informazioni su come regolarizzare la loro posizione. Infine ad un bando che doveva prevedere e ha previsto la partecipazione di cooperative o di aggregazioni di operatori mercatali per distribuire questi operatori all'interno dei mercati rionali e che ha visto la partecipazione solo dell'Arci che probabilmente non avrà i requisiti. Qual è la posizione del centro-destra? Gli operatori di questo mercato devono prima di tutto regolarizzarsi come tutti gli altri operatori italiani, quindi devono produrre una scia per poter vendere materiale, non quello contraffatto, ma materiale evidentemente etnico perché se si chiama etnico noi ci attendiamo che loro vendano materiale etnico e poi che vengano inseriti all'interno dei mercati rionali come tutti gli altri operatori dei mercati. Grazie. Grazie. Grazie.